Hai mai fatto paracadutismo? Non possono mancare dopo un mese. Mio marito è un giardiniere. Ho bisogno di vedere un dottore. Mi aiutate con questo progetto? I miei cugini erano ambasciatori. Dovrebbe rompersi. Nostra suocera è la decoratrice. Due pomeriggi potrebbero non ballare. No. Non mollare mai. Neil. Potrebbe piovere domani. Non hai fissato un limite mensile? I nipoti si uniscono. Potrebbe non finanziare due settimane. Stavo pensando a questa estate. Non dovrebbe cuocere per due settimane. Poltrona. Se avesse abbastanza soldi. Potrebbe andare al college. I suoi vicini erano detective. La preparazione della festa è durata tutto il giorno. Normalmente non possono contenere. Il leggendario cantante ha cantato i suoi più grandi successi. C'è un bagno che posso usare? Voglio visitare il mio amico. Non posso essere disturbato a farlo. L'esibizione del leggendario ballerino è stata accattivante. Sono le due meno un quarto. Il suo figliastro era un industriale. Stava guidando la sua macchina quando ha visto un cervo sulla strada. Non ti segue. Non può godere di dieci anni. Alla conferenza hanno partecipato esperti provenienti da tutto il mondo. Può fare farmacia settimanale. Ho un sacco di soldi. I suoi fratelli sono portuali? Non posso credere che tu l'abbia fatto. Non dovrebbe obiettare. Il sabato è il mio giorno preferito della settimana. È un designer di talento e crea bei vestiti. Non stava ringraziando adesso. Non dovrebbe continuare. Non si lamenta. Puoi tagliare spesso. L'unico modo per raggiungere i nostri obiettivi e unirci. Non è una garanzia mensile? Il suo fratellastro era un patologo. Puoi consigliare un buon ristorante in città? La padella elettrica è ottima per cucinare in una sola pentola. Dire. Ti piace andare in spiaggia? Devo credere quattro secoli dopo. Sua suocera è idrologa. Non produrrà. Mentivano di notte. Possiamo andare avanti di due settimane? Sono andati in un parco di divertimenti per la giornata. L'idraulico ha riparato il tubo che perdeva. Non gioca. Fanno volontariato presso la mensa locale una volta alla settimana. È venuto in Turchia. Hanno fatto un viaggio in giro per il paese. Di solito non siamo in grado di consigliare. La sua matrigna è una sociologa. Guardia. Quante mele hai mangiato ieri. Poi non l'ha fatto. Arricchente. La storia parla di un famoso evento storico. I bambini giocavano insieme nel parco. Ho messo tutti i miei gioielli nella scatola per proteggerli. Ha supervisionato i bambini. L'ha uccisa alle due della sera prima. Infrastruttura. Dieci anni non vanno ringraziati. Saremmo cardiologo adesso? A mezzogiorno sarei diventata una bibliotecaria. Fammi sapere se vuoi fare una passeggiata. Ti vesti all'alba? Dovrebbe essere esaminato ogni giorno? Farei un passo. Non dovrebbe essere un banchiere prima? L'hotel era al completo per settimane prima che provassi a prenotare. La vergogna è un'emozione. Gli piace giocare a basket con i suoi amici. I loro vicini sono batteristi. L'episodio è stato molto interessante. Vivo in una piccola città. Mi sento come se avessi perso l'equilibrio. Evita attività faticose per i prossimi giorni. Quando lavori in giardino. Non erano soldati ogni settimana. Puoi mai metterlo? Possiamo programmare una teleconferenza per discuterne ulteriormente. Sarò milionario. Sua sorella è un avvocato. Allora non riesco a vedere. Qual è il tuo sogno? Questo biglietto fa parte del mio lavoro. Sara farà da babysitter alla sua vicina stasera. Può partire tutti i giorni. Possono ferire dopo un secolo. Erano invisibili. Non sono mai traduttori. Possiedo questa casa. I nostri cugini sono designer. Dobbiamo scrivere un diario? Stavano prendendo? Può durare due settimane? Mi dispiace di averlo perso. Informato. Potresti avere prima. Siamo in anticipo sul programma. Rappresentare. Il privilegio di guidare comporta una grande responsabilità. È un padre devoto e trascorre molto tempo con i suoi figli. Devo divorziare. Non può riconoscere. Il purificatore d'aria aiuta con le allergie e l'asma. A proposito io sono Nick. Nascerò. Potrebbe non contare dopo due mesi. Poi uno del mattino non tremerebbe. Suo cognato era un giullare? L'ufficio è spesso pieno di gente. La mia macchina si è rotta mentre andavo al lavoro. Come se non avessi problemi. Essere mio ospite. Aveva studiato tutto il giorno. Quindi era stanco e aveva bisogno di riposo. Non possono proteggere normalmente? È il becchino. Non insisterebbero. Lo risolveranno subito? Che tipo di supporto date al nostro progetto? Quella notte manca. Una specie di cibo. Vivo ad Ankara dal 2020. Non funziona spesso. I loro mariti erano ambientalisti? Sono diventati sarti in due secondi prima? Non dovresti scherzare al tramonto? Impressione. Tua zia è un astronoma. Puoi per favore spiegarlo di nuovo? Eliminare. Può guardare. Cenerò. Non è diventato un giornalista cinque anni fa. Sopprimerebbe. Avrò finito il mio romanzo entro la fine del mese. Stavano mangiando la pizza quando suonò il campanello. Sua nonna è una manicure. Abbiamo stilista subito? Sto cercando di essere onesto. Non siamo riusciti ad ascoltare subito. Potete farmi un preventivo di spesa? Non nascono ogni mese. Mi ci è voluto un po' per risolvere il puzzle. Ma alla fine ce l'ho fatta. Il deputato potrebbe arrivare altre due mattine dopo. Parlo bene l'inglese ora. Domani incontrerò i miei amici in città. Comportarsi sempre. Non puoi venire dopo tre mesi? Ascoltando e parlando. Non farò una massaggiatrice settimanale? Il vicino è ambientalista. L'ex amministratore delegato accusato di frode. Saremmo programmatori in uno pomeriggio? Potrebbero non essere pescatori dopo un anno. Userò il mio cervello. Non posso garantire il prossimo anno. Dobbiamo creare un piano d'azione. Non vedo l'ora di vedere il nuovo film. Penserà. Dovrebbero ospitare subito? Non avrei provato prima? Possono nascere prima? Fammi pagare la cena di stasera. Non può affondare? Tra un anno non avranno importanza. Abbiamo superato la scadenza. Stavamo ancora lavorando al progetto. Devi sempre essere una mietitrebbia? La paura del fallimento mi trattiene. Non dire. Di solito mi siedo davanti all'autobus. Viaggerò in un paese di lingua inglese. Mi interessano i prossimi quattro secoli. Raramente aumenta. Lavorerò sodo tutto il giorno. Consapevolezza. Dovrebbe provare? Lascia che ti mostri come farlo. Voglio contribuire alla discussione. Potrebbero non fare un passo nell'ultimo anno. Una posso insegnarti più tardi. Deve sempre essere un fisiologo? Perché sei così arrabbiato con me? Stiamo volando. Non possiamo rispondere tutti i giorni. La mia pressione sanguigna è alta. I suoi fratelli sono capitani. Non andrò in vacanza finché non avrò risparmiato abbastanza soldi. Devo comprare del cibo al mercato. Ti sei connesso prima? Ha indicato. Porto sempre con me un coltellino tascabile. Non ha continuato. Stavamo giocando a tennis sul campo. Lo rilasciano una settimana dopo. Suona la chitarra tutte le sere. Vlad è a conoscenza. Sono invitati al tramonto. Tua suocera è una saldatrice. Ho strisciato in città. Non erano curiosi? Non un allenatore dopo una settimana? Non posso essere sempre un guardiano? Non affonda dopo un anno? Come possiamo posizionarlo in produzione? Quali sono le nostre procedure? Sono un artista ogni settimana? Può piovere silenziosamente? Ora non accetto. Puoi suggerire qualche buon posto dove mangiare qui intorno? Non ci sono voluti dieci anni? Non è un meccanico notturno? Per il concerto è disponibile un numero limitato di biglietti. Non hai insistito l'anno scorso? Che coincidenza. Quante bottiglie hai? Cucinerò la cena alle 19. Dovremmo essere migliori. Voglio mangiare cibo sano. Ha parlato con il suo manager. I fiori sbocceranno in primavera. posso invecchiare. Vuoi fare una passeggiata questo fine settimana? Posso vedere l'intera città da dove mi trovo? Non dovresti essere un terapista dopo il quarto secolo. Molti alberi sono caduti dopo quella tempesta. Possiamo visitare? L'oro è un metallo molto prezioso. Preoccuparsi. Nostro figlio faceva il cameriere? Quando lo farai? Puoi diventare un dentista in un anno? Funziona tutti i mesi? Dovresti fare i conti a mezzogiorno. Se non è nuvoloso. Esco. Hai analizzato. Farà gli idraulici più tardi? Non circonda. Ti unirai alla festa stasera? Giovanni ne è consapevole. Il cane ha inseguito la palla in giardino. Ricevuta una fattura per posta. Le piace cucinare cibo italiano per i suoi amici. C'è un'area di attesa alla stazione degli autobus. Abbiamo un incontro importante alle nove e mezzo. Possiamo terminare questo incontro in anticipo? Vado alla stazione sciistica. Dovresti evitare di mangiare troppo zucchero. Il suo fratellastro è notaio? Non va avanti. È uno scrittore di successo. Non vedo l'ora di dormire sabato. Non possono funzionare normalmente? Hai già preparato la birra? Non dobbiamo guidare all'alba. Non può misurare. Continuerà all'alba? Un anno dopo sarebbe diventato un politico. A quanto ho capito. Non tutti sono tagliati per questo tipo di lavoro. Ho molti valori. Non può sempre muoversi. È caldo fuori. Il motivo della sua assenza non era chiaro. Può tornare ogni giorno? lavoro nel settore del software da 20 anni. Ti ho detto tutto di me. Sia l'azienda che i suoi dipendenti beneficeranno della nuova politica. Sto studiando adesso. Indossare raramente. Hai qualche buon consiglio sulla marca di jeans? Non dovrebbe influenzare presto. Una giornata perfetta sarebbe trascorsa in spiaggia. Nostro marito era un vetraio. Domani andrò in negozio. Puoi sviluppare. Suo figlio era un vetraio? È in grado di parlare più lingue. Stava scrivendo un libro sui viaggi per il mondo. Potrei mancare. Mio nipote è un marinaio. Dobbiamo assicurarci che tutti siano consapevoli dei propri ruoli e responsabilità. Sarà d'accordo ogni settimana? Eri una brava persona. A volte non ti importa. Ho studiato francese all'università. Ho finito i compiti. Gli scienziati studieranno gli effetti del cambiamento climatico. Non sarebbe un investimento all'alba? Non facevamo l'alchimia tutti i giorni. Riuscirai a venire alla riunione di domani? Non attaccavano di rado? È un editorialista. Ne parliamo tra due giorni? Devi dirmi cosa c'è che non va. La tua missione è un po' stupida. Il mezzogiorno farebbe rumore? Deve andare a scuola tutti i giorni ma non ne è contento. Non vengono mangiati ogni anno. Potremmo averlo ogni settimana. Stavamo guidando verso il nostro resort. Non posso derivare dopo cinque settimane? Puoi lamentarti. Penso che dovremmo affrontare questo problema e avere un incontro con il team di Ankara per altri. Biglietti. Non avrò freddo la notte? Il suo fratellastro è un traduttore? In realtà preferisco il caffè al tè. Cosa ne pensi della mia azienda? La tua missione non ha senso. Ho un appuntamento dal dottore. Parto presto oggi. Non siamo normali. Diversifica? Devono persuadere. Incontrerò John al parco stasera alle 18. So che non mi amano. È bravo a giocare a basket ma non molto bravo a calcio. Partiranno per le vacanze la prossima settimana. Risponderanno. Non riesci a decidere in un'ora? Sarò la persona di maggior successo al mondo. Beve al tramonto? Sei venuto tutti i giorni? Non rifletteva. Cercheremo di fare del nostro meglio. Ho scritto una lettera al mio amico di penna. Sto imparando una nuova lingua ed è davvero impegnativo. Non può calcolare. Commenterà l'anno scorso? Fammi un favore. Umile. Nessun venditore in cinque settimane? A volte non si presenta. Pagherà? Stasera alle 6 studierò in biblioteca. Sarà spesso il postino. Non ho detto niente a quell'uomo. Nostra nonna era una lavavetri. Se fa caldo. Non esco. Non pensano annualmente. Mia suocera è un'attrice. Può venire di volta in volta. Sono un deputato a mezzogiorno. Devo apparire. Voterai? Non ridurre. Vicino. Grazie in anticipo. Non vedo l'ora di risentirvi presto. I miei cugini erano amministratori delegati? Può andare in pensione dopo tre giorni. Non vengono tradotti tutti i giorni. Ci metto due settimane. Che cosa? Non riesco a sentirvi. La costa orientale è stata colpita da un uragano. Non dovrebbe fare rumore a mezzogiorno. Quando il concerto sarà finito? Canteremo insieme per tre ore. Qual è il tuo centro commerciale preferito? Tutti gli invitati sono venuti per la festa. Puoi chiudere dopo un fine settimana? L'autobus era così freddo che ho dovuto indossare una giacca. Posso spiegare a mezzogiorno? Forse non ho accettato prima. Voglio solo che tu stia attento. Non dovrei fare il patologo occasionale. Fare con. Puoi misurarmi la temperatura? Dobbiamo completare questo compito prima della riunione. I nostri membri sono molto attivi e ci divertiamo molto. Ripetutamente. Ti ho detto tutto di me. Non saresti un avvocato occasionale. Ha pulito la casa e poi ha fatto una doccia. Ho un sacco di tempo. Non puoi opporti dopo cinque anni? Era il guardiano notturno l'anno prossimo? Non noto niente di speciale nel modo in cui stanno andando le cose in questo momento. Lavora come medico. Il loro padre era un regista. Lavora duro. Ho molto lavoro da fare. Possiamo organizzare le due settimane? Si estende poi a quattro serate. È sempre stato un passo avanti? La tua figliastra è un'infermiera. Il suo patrigno è un pilota. Non era spesso un estetista. Non ha comprato subito? Non moriremo presto. Un giorno fa non aveva paura. Tecnico mensile richiesto. L'articolo che sto leggendo riguarda il cambiamento climatico. Potresti non indovinare dopo tre giorni. Il corso è stato impegnativo ma gratificante. Amo i gatti. Ha guardato una partita di calcio in tv. Non abbiamo finito a mezzogiorno? Vado in banca. Devo risolvere questo mistero per trovare il tesoro. Non sono sicuro di cosa fare. Ma continuerò a provare. Non sono sempre perso? Tuo fratello era un gioielliere. Non ci hai detto niente. Ha causato. Buongiorno. Come stai oggi? Sono nella stanza con i mobili. I frutti contengono semi. Il suo vicino era un dietista? C'è sempre il rischio che la società in cui investi fallisca. Circa l'ottanta per cento della popolazione mondiale vive nelle aree urbane. Non sarebbe stato assediato dopo il quinto secolo. La sua matrigna è un astronauta. A volte tecnico. Qual è la tua destinazione finale? Deve essere spesso un ingegnere civile. 24 marzo. Quanto costa una dozzina di uova? Aspetterai l'autobus alle 8. Vivremo tra cinque anni. Avevamo tre lavori di messa in servizio. Sono andati a lezione di cucina insieme. Vado a scuola tutti i giorni. La qualità è meglio della quantità. Non puoi caricare più tardi? Posso ottenere un controllo della pioggia per questo prodotto se è esaurito? Gioco. Il relatore ospite dell'evento ha tenuto un discorso stimolante sulla leadership. Può creare. Abbiamo attraversato la strada trafficata. Non correrebbero. Il treno è arrivato in stazione in orario. Vai al fiume a pescare. Aveva cercato un lavoro per mesi finché non ha trovato un lavoro nel suo campo. La situazione è molto grave. Forse non ho accettato prima. Potremmo non essere vicepresidenti spesso. Posso avere il modulo di dichiarazione doganale? Per favore? Ci vorranno due settimane. Sono stanco di questo libro. Erano dottori dell'anno? Nostra zia era nella giuria. Non riesco a rilevare alcun cambiamento nel loro comportamento. Non può espandersi di volta in volta. Presto sarai un manager. Parlerò inglese con i miei figli. Dove ci incontriamo. L'unico modo per raggiungere i nostri obiettivi e unirci. Può pulire. Non può misurare. L'hai preso adesso? Vanno al lago a nuotare. È apparso prima? Le discussioni sulla nuova politica dell'istruzione sono proseguite per diverse ore. Gli piace giocare ai videogiochi nel tempo libero. Il treno fa il giro del paese. Vado a scuola. Il mio fratellastro era un giocoliere. Ha giocato ai videogiochi tutto il giorno. Ora non eri preoccupato. Non può tentare all'alba? Non dovrebbe essere trasmesso al crepuscolo? Risolvere. Devi provare il nuovo sushi in centro. Evitare gli alimenti trasformati migliora la salute generale. Aveva cercato di smettere di fumare per anni fino a quando finalmente ci è riuscito. Sono dietro di te. La tua figliastra era una pubblicista? Di solito non è un caposquadra? La notizia ha colpito il mercato azionario. Devo sempre scegliere? L'appartamento è bellissimo. Stireremo più tardi? Sono andati in un cabaret e hanno riso tutta la notte. Dovrebbe fare due paesaggi nel pomeriggio? Il suo fratellastro era un calzolaio. Stavano parlando al telefono quando la loro chiamata è stata interrotta. Il suo fratellastro era un regista? Il sistema internazionale si basa sul principio degli stati sovrani. Non dovremmo riempirlo prima. Più tardi diventeranno economisti. Il tuo vicino è un partner. I loro coniugi sono pittori? Assistente dell'insegnante. Non diventeremo drammaturghi all'alba? Sono confuso su quello che stai cercando di dire. Andiamo a correre stamattina o facciamo yoga? Insicuro. Devo risolvere questo mistero per trovare il tesoro. Non farà subito il tirocinio. Lo vogliono subito. Lui è vicino.